Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Lulù, dopo che si sono diffuse voci di crisi circa il suo rapporto con il notatore, ha rotto il silenzio e ha spiegato cosa sta succedendo In questi giorni Manuel Bortuzzo e Lucrezia Lulù se la si è sono finiti al centro del gossip per via di alcune indiscrezioni originatesi da fonti non meglio specificate che hanno parlato di una presunta crisi nel loro rapporto sentimentale Non è chiaro come e da dove abbia preso piede lo spiffero, ma quel che è certo è che si è diffuso, tanto che una miriade di fan hanno iniziato a tartassare i due ex concorrenti del grande fratello Vip, domandando se tutto procedesse bene Probabile che i sussurri che vogliono il legame scricchiolante si siano alimentati per il semplice fatto che i due giovani sono stati un poco meno presenti del solito su social Non certo un buon motivo per lanciare finti scoop su presunte rotture, ma tant'è A placare le voci circolanti ci ha pensato la principessa, con un intervento nelle scorse ore su Clubhouse Lulù ha detto ai suoi fan che nella settimana che verrà potranno assistere a delle cose bellissime Farò qualche shooting, anche con Manuel, ha sottolineato Perciò state tranquilli, e basta con tutte queste ansie che state scrivendo Non c'è nulla di cui preoccuparsi, noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia Vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della signora in gialla Tutti che fanno gli investigatori privati Mamma mia! L'ex Jeffina Vip ha anche detto di essere sconfortata in quanto ci sono persone che credano che lei e il nuotatore Tristino siano delle persone poco sincere Mi dispiace che pensino che io e Manuel siamo dei bugiardi Ci dispiace, capito? Se avessi qualcosa lo diremmo immediatamente Speriamo che non accadrà mai! Lo speriamo per la nostra storia State tranquilli! Facciamo le corna! Nessuna parola invece per quel che riguarda il recente gesto di papà Bortuzzo, Franco, che le ha levato il segui da Instagram La vicenda ha fatto molto rumore nella fanbase della principessa e in molti si stanno tuttora chiedendo la motivazione che ha spinto Franco a prendere una simile decisione Manule Bortuzzo e Lulu Selassie, liti e amore al GFV.I due giovani si sono conosciuti all'interno della casa più schiata d'Italia Inizialmente Bortuzzo ha allontanato Lucrezia, considerandola troppo ingombrante e troppo bisognosa di attenzioni Con il passare delle settimane, però, Manuel e la ragazza sono via via riusciti a trovare un solido equilibrio e a far crescere il loro legame che si è trasformato in passione Da quando si è concluso il grande fratello Vipsei, il nuotatore ha ribadito più volte di volere dei figli dalla compagna e di essere intenzionato a trascorrere tutta la vita assieme a lei Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video